calmici e camiche ben trovati siamo qui per commentare il vangelo e le letture della terza domenica del tempo ordinario anno c dal vangelo secondo luca poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fino a principio e divennero ministri della parola così anch'io deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te illustre teofilo in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che ricevuto quel tempo gesù ritornò in galilea con la potenza dello spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione insegnava nelle loro sinagoge e gli rendevano lode bene a nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere gli fu dato il rotolo del profeta israel aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto lo spirito del signore è sopra di me per questo mi ha consacrato con unzione mi ha mandato a portare ai poveri lieto annuncio a proclamare ai prigionieri la liberazione ai ciechi la vista a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del signore li avvolse il rotolo riconsegnò l'inserviente sedette nella sinagoga e gli occhi di tutti erano fissi su di lui allora cominciò a dire loro oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato nella prima lettura libro di neemia che succede che due parole sul contesto storico perché importante israele era già tornato a casa da circa un secolo sapete finito l'esilio israele e bella grazia di tornare a gerusalemme e però le cose andavano piuttosto male perché la situazione era caotica non c'era ordine non c'era giustizia c'era anche un po di miseria quindi messa male insomma tanto che il diciamo così l'imperatore persiano artaserse che era poi poi il governatore di quella ragione cosa fa decide di mandare un uomo saggio il sacerdote esra il quale era incaricato di così riassettare israele di rimettere insieme i pezzi per così dire e esra capisce che tutto quanto va a rotoli perché perché israele ha abbandonato le pratiche religiose non rende culto correttamente al signore e allora entriamo nella così nell'ambito di questa lettura cosa fa esra raduna tutti quanti tutti i figli israele quelli che potevano intendere volere di raduna e legge le letture legge il libro che il signore consegnato al popolo israele lo fa in un modo corretto ordinato dice costruisce un tribù di legno dispone le persone in un certo modo sta in alto rispetto al popolo e il popolo capisce che ha sbagliato che sta sbagliando semplicemente ascoltando la parola del signore non fa grandi gesti grandi cose dice il libro della legge e spiega il senso di questo libro non fa grandi cose ripeto non semplicemente nutre il popolo con la parola di dio lo fa in modo ordinato corretto quindi grande insegnamento per noi oggi la liturgia la liturgia è una componente essenziale per rendere culto a dio non è un di più non è qualcosa che si improvvisa che può esserci non esserci che si va in chiesa non si va in chiesa la stessa cosa qualcuno dice non sarete giudicati per quante volte siete andati in chiesa a sentir la messa ma per come avete vissuto attenzione attenzione non si può vivere bene se non c'è un momento in settimana in cui ci si raduna con i fratelli e sorelle si ascolta parole di dio si celebra la presenza del salvatore difficile vivere bene senza questi momenti ecco allora l'importanza della liturgia dominicale che sia solenne sobria decorosa bella non raffazzonata non improvvisata non canti di qualsiasi tipo non musiche fatte male non voci che urlano possibilmente si sente un po di tutto però ecco impegno è anche questo è andare in questa direzione e poi spiegare la parola di dio non è immediata specialmente per la bibbia che è un testo scritto millenni fa quindi non è immediato comprendere i testi della bibbia allora ci vuole qualcuno di buona volontà competente che spieghi anche con omelie appropriate il senso delle scritture e non faccia omelie così abbraccio non parli di tutto di più improvvisando assolutamente no le omelie le spiegazioni vanno preparate adeguatamente come del resto Ezra fece ai suoi tempi con il popolo di israele ecco allora risultato tutto questo grande festa dice fate festa mangiate carni grasse bevete vini dolci chi non ne ha può partecipare del cibo di chi lo ha insomma una grande festa per tutti è la gioia di riconoscersi salvati di ascoltare la gioia e la parola del signor risorto e quindi celebrare tutto questo in assemblea c'è chi mi dice io sono cristiano però non vado in chiesa mi dico probabilmente tu non sei neanche cristiano ma cattolico per così dire no parliamo del cattolicesimo perché il cristianesimo ormai è abbastanza un concetto fumoso ma non sei cattolico perché se tu fossi cattolico sentiresti il bisogno di stare in assemblea con gli altri con i fratelli e sorelle ascoltare la parola di dio dice sì però poi si va in chiesa si chiacchiera si sparla si giudica si fa gli ipocriti tutto il resto non è affar tuo tu vai in chiesa per il signore non vai in chiesa per i fratelli e sorelle o per il sacerdote ci vai perché c'è Gesù Cristo tutto lì quindi parliamo a ribattere alle obiezioni in modo ordinato e corretto come fa Ezra in chiesa si va per il signore basta tutto il resto basta in secondo piano non si può anteporre nulla al signore si fa fatica bene si fa fatica e nei paesi di sviluppo si fanno ore di cammino per andare in chiesa la domenica mattina noi perché sta piovendo non vado in chiesa seconda lettura lettera dei corinzi qui c'è famoso apologo di san paolo il quale tratta delle membra del corpo tutte queste membra servono al corpo e devono essere ordinate la loro funzione deve essere ordinata in modo da creare non competizione non disco e disaccordo ma unità e quella di corinthio ci sono state delle discordi avversità eccetera anche verso san paolo insomma così criticato da più riprese tanto che dovete mandare anche tito per sedare un po gli anni comunque è normale in un'idea cristiana si succede di questo e anche di altro e dice insomma quindi ogni membro ha la sua funzione non deve essere in competizione con gli altri deve essere in armonia con tutto questo corpo il corpo chiaramente quello della chiesa il corpo mistico di cristo noi siamo le membra di questo corpo per cui non dobbiamo in nessun modo porci in competizione se non positiva se non sana no vedo uno che fa una cosa buona e bella dico ma la faccio anch'io non con spirito di competizione ma con spirito di imitazione di promozione se l'ha fatto lui vorrei farlo anch'io magari meglio il bene si diffonde bon diffusivum sui diceva santo maso d'aquino basta che non faccio il bene gli altri tante altre persone faranno il bene appunto con imitazione di questo atto buono e poi paolo dall elenco dei carismi e dice carismi più elevati sono quelli che riguardano la predicazione essere apostoli profeti maestri eccetera eccetera questi ruoli non devono dare una specie di privilegio non devono favorire smisuratamente chi ha questi carismi sono carismi di servizio il sacerdozio essenzialmente servizio chi cerca di fare sacerdote per avere privilegi non ha capito molto no gesù si mette il grembiule lava i piedi ecco perché quindi torniamo al senso di servizio del sacerdozio ogni ministero deve essere di servizio tanto più e negletto tanto più e misconosciuto tanto meglio è così non riceviamo neanche lodi non abbiamo la nostra ricompensa su questa terra no bravo hai fatto questa cosa bella anche se nessuno me lo dice sono certi di avere un tesoro nel regno dei cieli quindi ancora meglio no io dicevo quando ero in parrocchia cambiate l'acqua ai fiori perché il lavoro così più umile più nascosto più negletto ecco fate quello così avrete un premio maggiore cambiando l'acqua ai fiori sono anche più rimuoio non so vediamo infine al vangelo e abbiamo l'incipit all'inizio del vangelo di luca chi è luca luca era probabilmente un medico di origine greca luca è legato al nome luce insomma quindi all'illuminazione ed è l'unico che non ha conosciuto tra gli evangelisti non ha conosciuto direttamente gesù lo dice chiaramente io guarda non sono quello che ha conosciuto gesù però in modo molto pratico in modo molto rigoroso ho cercato di ricostruire le vicende riguardanti lui con testimonio oculari e ho fatto in circostanza ho fatto ricerche accurate lo dice chiaramente fino all'inizio perché tu teofilo possa renderti conto di quello che è successo chi è questo teofilo il nome vuol dire amico di dio quindi potrebbe essere chiunque di noi non chiunque legge amico di dio quindi però potrebbe anche essere uno sponsor sapete quei tempi scrivere è un'attività costosa ci voleva un pergamene daniello bisognava per pagare gli iscrivi per così riprodurre i testi insomma era una cosa piuttosto impegnativa economicamente allora forse questo teofilo ha dato dei soldi perché Luca potesse scrivere anche per poter campare insomma doveva scrivere non poteva lavorare quindi forse ha mantenuto anche Luca questo teofilo in ogni caso il risultato è questo eccellente Vangelo che San Luca ha scritto e in particolare qui la liturgia mette un bravo capitolo 4 passa dal capitolo 1 capitolo 4 e si parla di Gesù che sta a Nazareth a casa sua e secondo lei il rituale ebraico il sabato ogni maschio adulto deve andare in sinagoga per leggere commentare a turno la scrittura quindi anche Gesù adulto circonciso non solo ma anche rabbia era anche un maestro quindi ha il privilegio di parlare seduto si siede quindi è l'atto tipico dei maestri e gliene consegnato il rotolo di Isaia in cui si parla appunto del giubileo cosa è il giubileo voi sapete che in Israele ogni sette settimane di anni quindi ogni 50 anni c'era una ridistribuzione delle proprietà delle ricchezze eccezionale altro che socialismo altro che comunismo veramente erano avanti quindi ogni tot tempo venivano cancellati i debiti venivano ridistribuiti i terreni tutti quanti potevano partecipare della ricchezza che il Signore ha donato a Israele eccezionale poi appunto ci fu il mio 300 il giubileo l'anno santo anche per noi però in Israele hanno fatto anche soprattutto economico quindi io ho un debito viene cancellato io sono schiavo vengo liberato eccezionale bene Gesù appunto legge il brano che fonda il giubileo di Israele dice devo mandare dietro annuncio ai poveri proclamo la libertà dei prigionieri ridolò la vista ai ciechi rimetto la libertà agli oppressi eccetera l'anno di grazia del Signore eccetera eccetera quindi sembra quasi anzi è così che di fatto la salvezza del mondo viene solo dal Signore è difficile confidare nelle istituzioni umane per dire salviamo il mondo tramite i nostri mezzi umani poca fiducia in questo anche perché le cose vanno piuttosto male avete visto l'altro giorno a New York la legge che approva l'aborto fino al nono mese senza particolari condizioni quindi basta che una madre voglia abortire e abortisce fino al nono mese è agghiacciante quindi vedete che tocca confidare nel Signore veramente veramente confidare nel Signore per la salvezza del mondo non solo ma Gesù fa un gesto che io chiamo apocalittico in che senso sapete in Apocalisse si parla del rotolo con sette sigilli ogni sigillo viene aperto e Gesù fa proprio questo gesto apre il rotolo con il sigillo e compie un gesto apocalittico quindi sembra che quello che fa sia ciò che accadrà nella rivelazione finale nell'Apocalisse quindi sembra che l'Apocalisse come atto finale l'Apocalisse è già in atto quindi quello che succede, quello che è descritto l'Apocalisse già succede la terza parte del mare diventa sangue, ha voglia i monti cadono nel mare, tsunami e tutto il resto cose che stanno già accadendo però in questo caso abbiamo il gesto apocalittico apre il sigillo e proclama il Giubileo quindi forse l'Apocalisse come atto finale ripeto, è una proclamazione giubilare quindi libertà per gli schiavi si risanono le malattie i prigionieri liberati, tutto il resto gli oppressi non soffrono più quindi questo sarà l'atto finale dell'Apocalisse il nuovo mondo finisce il mondo vecchio, comincia il mondo nuovo con tutte queste caratteristiche e speriamo veramente che succeda presto perché signori siamo stanchi di aspettare vieni Maranatà allora riassumiamo il messaggio di oggi abbiamo detto Ezra, uomo saggio vede che i malani di Israele sono dovuti a un culto raffazzonato verso Dio allora organizza il culto mette ordine fa le cose per bene e il risultato è una grande festa il popolo capisce ammette i suoi peccati e fa una grande festa con cibi, vivande per tutti veramente Ezra, uomo di Dio secondo lettura San Paolo e i Corinzi parla dei caismi non sono contraposizioni tra i fedeli non sono competizioni malate acide eccetera invece sono competizioni sane se voglio fare qualcosa di buono lo faccio così anche altri magari lo fanno in molta umiltà cospito di servizio non è clericalismo non è obbligare qualcuno per il ruolo che ho no, questo no invece è servire i fedeli con i propri carismi i più elevati sono appunto quelli riguardo l'insegnamento la predicazione eccetera eccetera vediamo il fine del Vangelo abbiamo visto Gesù in sinagoga proclama in grado di Isaia la liberazione degli schiavi la guarigione dei malati la libertà per gli oppressi eccetera eccetera quindi un gesto di carattere apocalittico apre il libro spezza il sigillo e proclama queste queste azioni che evidentemente sono il fondamento dell'apocalisse l'apocalisse verrà e il risultato sarà questo il mondo nuovo con tutte queste cose buone e belle che abbiamo sentito bene per oggi è tutto grazie per l'ascolto arrivederci alla prossima di benedica grazie per l'ascolto